Operazione go-kart dei carabinieri di Enna. Nella notte sono state arrestate 49 persone per associazione a delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, rapine, detenzione di armi e altro. Le indagini coordinate dalla procura distrettuale antimafia di Caltanissetta sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo di Enna e della compagnia di Nicosia. Impegnati 300 militari, gli arresti sono stati effettuati a Regalbuto, Centuripe e Catena Nuova. L'operazione è stata battezzata go-kart perché alcuni imprenditori indagati sono proprietari di una pista di kart nell'Ennese.